Siamo quasi a novembre, insomma l'autunno è già arrivato e ancora ci sono delle cucciolate al canile di Arezzo che cercano famiglia. Sì, ancora abbiamo gattini, abbiamo gattini ormai grandini, diciamo gli avanzi di quest'estate perché più rustici. E' arrivata recentemente questa cucciolata di tre sorelline, tutte e tre tartarugate, trovate a Palazzo del Pero che cercano una casa. L'appello che rinnoviamo ogni volta è quello alla sterilizzazione. Sì, assolutamente, sterilizzare, sterilizzare tutto, ma soprattutto anche non solo i gatti ovviamente di proprietà, ma molto spesso noi riceviamo telefonati di persone che dicono ma c'è una gattina che sta qui fuori, gli ho dato da mangiare per mesi, mesi, mesi e ora è incinta e ora mi ha fatto i gattini. Io capisco che ovviamente dare da mangiare costi meno, dipende poi per quanto tempo rispetto alla sterilizzazione, però la prima cosa da fare quando uno ha una gatta, anche che non è la sua, fuori, che è anche brava tra l'altro, è pensare di sterilizzarla, chiedere, informarsi con vari enti se si può fare, perché almeno evitiamo queste situazioni. Anche perché quest'estate avete vissuto delle vere situazioni di emergenza, sommersi dai gattini. Sì, quest'estate non sapevamo veramente più dove mettere i gattini, erano da tutte le parti, anche perché le adozioni sono partite tardi, non sappiamo perché, però sono partite tardi.